Stai affraschiati se, stai affraschiati se dopo due anni che i nostri marò sono illegalmente trattenuti in India, non si è mai visto un drappo, un qualcosa, stai affraschiati se per evidenziare questo problema, per manifestare la solidarietà ai nostri due marò, occorre fare un blitz per esporre un manifesto che ricordi che due nostri fratelli, due servitori dello Stato in divisa sono da due anni lontani dalle loro famiglie, poi verrà il tempo di regolare i conti su chi dette l'ordine alla nave di rientrare, stai affraschiati se c'è bisogno di un blitz. Grazie. 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 Grazie.